Se volete acquistare crediti FIFA a basso prezzo andate su FIFAUltimateTeamCoins.com E con il codice GRAN avrete il 5% di sconto Bella ragazzi bentornati qui su Kairi Brands Siamo tornati qua con il rotto di John 1 Dittery Doppá 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 Steven Gerard Vabbè dai una squadra normale oggi Ma chi è l'esercito? Ragazzi questa qui è una partita fondamentale E cosa? È Salah Salah si chiama Salah Comunque questa qui è fondamentale Perché se vinciamo questa partita C'abbiamo dei partiti per vincere una E' essere promossi Quindi diciamo che va bene Comunque una Premier che non è tra le più baggate che abbiamo incontrato Questo non è un rischio sempre quello che fa Capito un giorno Umets Un mezzo in mezzo Un mezzo in mezzo La putta in mezzo ci sta Le vadoo c'io Olè Subito al 100 minuto Umets Vediamo guardare di Umets Guarda che ha fatto Un caramba Oum Con il primo Con il primo Vadoo forza Guarda cosa? Guarda c'è sta sempre l'ora in mezzo Sempre l'ora in mezzo Un Uh Obame 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 Le vado per cazzo Che cazzo c'è su io C'è nessuno Non è sicuro che c'era qualcuno Falla per Casper Parla per il fantasma ancora albina alba partita a cento lewandowski robertina ma andami fuori qua no scusa no perchè sti cazzote diri de merda ho fatto la finta non ho tirato però non m'ho finta non solo eh perchè stavano a diritto tu mi hai detto dammela dell'ho fatto la finta però non m'ho finta e quindi ho tirato stai fuori gioco là si aspettavi un attimo eh ho aspettato ma infatti è quello o l'ho aspettato e datela che cazzo di passaggio era da manche ma da ma su ma se questi manco capiscono l'input danno a su o giù cioè vannayang è davvero così stupido cioè in me lui d'entrata stagione ci sono correre correre incredibile o non riesce a prendere il pallone va bene vattene vattene guarda rois perfetto perfetta perfetta ma che che per il per l'incoluzzo giaconalli mamma mia mi pronuncia posso posso giocare posso giocare mamma mia mamma mia visce che giallo No Manco giallo No, non gli ho da, non gli ho da Guarda Vieni qui, bello Tu vado, tu vado, vai Niente, vi c'è che pure prima la partita di ieri era giallo Oggi è giallo Uno terzo Bello Bravo, bravo Questo se ne va, no, te prego Porco cane Ci ha lasciato anche lui Vai così Andiamo avanti con un'altra partita, quindi Che scurissimo Vabbè, vabbè, vabbè Ecco la seconda squadra Olè, Dzeko E Fabri No, che cazzo è quello Eh, cazorla Santi cazorla Vabbè, comunque Fabri, cazzo c'è stava E Walcott Dai, regà, quindi Che cosa dire Se vinciamo questa Siamo passati in quinta In quarta, scusate Le cose stanno andando Cioè, due le promozioni di seguito Incredibili Comunque, quello di prima era proprio una pippa Certo Certo, ha sbroccato così Sì Stavo poi tu Sbroccato dopo il gol Questa ha sbroccato a metà Sì, metà a campo Metà a campo Ho buttato palla fuori No, bambo Qui gioca Perfetto Perfetto Mamma mia Dovi tagli una craniata in faccia Vai, vai, tira Tira Oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia, che ciro, che ciro ragazzi Un ciro che convince sempre di più ogni partita Umberto, ancora lui E cambina, te cozzo Eh, hai preso Che bello Che bello Corre, correre, correre, correre Arriva palla, cosa fare? Corre, corre Anzi Adesso il piano di fare palla corsa lui Cioè Bello Lo fai? No Sì Questo sì però No, perché non ti ammira Ma no Ti aspetta prima, ti prende e poi ti dì Ma no Questo sì Ma andai qua Baffan Ma te Ma te No, no Ma te Non è ma te Non è ma te perché ricoperto Cioè 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 Ma manco quello perché ricoperto, cioè Io quello dovevo fa Guardate Oh Eh, guarda, sono te Che? Che si è perso palla Bello Bello Gozzi, gozzi, è lui No Non ce posso creare L'hanno ribaltato, hai visto? Cioè, è morto No E' andato, metti in mezzo Metti in mezzo No, non hai capito? Stavo tenendo così il coso Perché me la partita Eh, affungo Che questo coso fa cagliare E' riuscito ad andare Eh, lo so Però c'è È scivolato Oh, schifo sto joystick Oh, oh Oh, lo è Ma ho perso Uomo partita Ha fatto tutto Lo è Lo faccio Ma fa battagongia No, no Facciamo cazzate Guardate, mi quando ve lo fa battagongia No, no, no No, no, perché uomo Se hai meritato Tira a destra Tira to cazzo le pare Quello che non c'è Per me è uguale Bam Sì Ma come stanno due La fortinità Eh, ma non avevo già segnato Eh, ma non avevo già segnato il 2-0 No, perché cos'hai mannato, ti ricordi? Tagli così Boom, ragolla Per te cazzo le pare Porco cane Non mi devi dare sti passaggi, però Porca troia Ma lo sai che ti ridò Ma non hai capito È lui che lo stoppa così Non devi stoppare La vita di prima E che cazzo ho fatto io È proprio lui che la stoppa così È proprio perché è fatto così il portiere Oh Oddio No, no È Ciro È Ciro È Ciro È Ciro È Ciro Un buttato È Ciro Dai riuscio quadri di abbondanza polini da finissima se indizioni 4 conquista del titolo la prossima partita sarà per la testa e quindi rientreranno la serie a giusto se la meritano non gioca a loro non è finita fallaggio comunque la prossima con la serie a appena fischia chiudiamo il video olè! ok appena fischia è finito finalmente e niente noi ci becchiamo al prossimo video siamo a 16 punti, ciao! .